Buongiorno da Edo, episodio 101, intanto grazie a tutti quelli che mi hanno scritto ieri, commenti, anche semplicemente per darmi un bentornato o per dirmi cosa piace, cosa non piace di questo nuovo format, naturalmente come promesso io tengo conto di tutto, poi farò esperimenti vediamo un po' come può andare, l'importante è che questa roba risulti divertente per me da fare, interessante da seguire e anche sostenibile perché naturalmente il tempo è quello che è, bisogna un po' stare nei limiti temporali imposti dalla giornata, quindi andiamo avanti, proviamo questa seconda puntata e oggi parliamo di Blue Sky, allora che cos'è Blue Sky che naturalmente è un po' il trending topic di questi giorni, perché lo scorso weekend è stato lanciato a inviti quindi ci si può iscrivere a una waitlist e andare a partecipare, è un social network, un nuovo social network che fondamentalmente è clone di Twitter ma perché è clone di Twitter? Perché è stato creato dallo stesso creatore di Twitter che è Jack Dorsey Jack Dorsey come molti sapranno creò Twitter nel 2006 mentre lavorava in una società che faceva publishing di podcast comunque contenuti audio video in RSS, lui era diciamo così affascinato dagli instant messenger dell'epoca e quindi propose alla sua azienda un piccolo network, un piccolo prototipo che era un modo per condividere messaggi istantaneamente però pubblicamente, questo era basato sugli SMS e quindi nel 2006 ufficialmente nacque Twitter con lui alla guida quindi lui fu il primo CEO di Twitter, poi nel corso degli anni lasciò e riprese varie volte il ruolo di CEO e fondò anche un'altra azienda che si chiama Square che poi è stata rinominata Block nel 2021 perché poi lui ebbe una fascinazione a un certo punto per la blockchain e le criptovalute quindi gli piaceva quest'idea della blockchain, del protocollo decentralizzato e quindi anche Square diventò block anche se non è basato su criptovalute però insomma questo riflette un po' il suo pensiero e Blue Sky stesso riflette la fascinazione che lui ha avuto per le blockchain perché infatti nel 2019, mentre lui era ancora alla guida di Twitter, crea questo spin-off interno in cui prova a dar vita a un progetto di nuovo social network basato su un protocollo decentralizzato quindi creano questo nuovo protocollo che si chiama AT Protocol, che è Authenticated Transferred Protocol che è un protocollo di condivisione di messaggi open source, questa è l'unica cosa open source di Blue Sky al momento ed è una cosa che fondamentalmente compete con tutta una serie di protocolli già esistenti e a loro volta open come Activity Pub infatti molti hanno fatto notare che si poteva magari contribuire ad Activity Pub invece di andare a creare qualcosa di nuovo lo stesso Mastodon ha ironicamente puntato al repo di Activity Pub su GitHub consigliando insomma agli sviluppatori di Blue Sky di andare a darci un'occhiata ma insomma nasce questo nuovo social network decentralizzato Jay Greber diventa il primo CEO e attuale CEO di Blue Sky e Jack Dorsey siede nel cere e un po' sovrintende all'evoluzione del network dicevamo quindi che l'AT Protocol è open source ed è l'unica cosa open source al momento di Blue Sky potete trovare il codice su GitHub e anche sul sito molta documentazione su come AT Protocol funziona e come i vari pezzi si incastrano tra di loro però questa è l'unica cosa open source e il resto quindi il back end di Blue Sky e le app iOS, Android, il sito web sono closed così pure è closed l'algoritmo che va a suggerire i nuovi contenuti quindi la personalizzazione del feed agli utenti e praticamente sul sito di AT Protocol si può trovare da cosa è formato questo protocollo e cosa usano i vari server per comunicare tra loro praticamente è stato creato questo protocollo soprattutto per ovviare ad alcune mancanze di Activity Pub soprattutto la portabilità dell'account tra un server e l'altro e lo schema anche dello username perché sapete che con Activity Pub se avete fatto un account master non sapete che lo schema dello username è fortemente legato al server su cui ci si iscrive la prima volta mentre Blue Sky vuole permettere agli utenti di usare un proprio dominio come schema dello username bene, alla base AT Protocol funziona con un wrappers che è stato costruito attorno a HTTPS che si chiama XRPC che è il modo con cui i nodi server della rete Blue Sky comunicheranno tra di loro e usa uno schema system che si chiama Lexicon che è fondamentalmente un'estensione di JSON è basato su JSON e ha degli schema che possono elencare i metodi XRPC di un server così pure i dati, gli utenti, le entità disponibili su questo server e le identità degli utenti sono basate su criptografia a chiave pubblica e hanno due forme di identificativi una è il nome DNS quindi per esempio edo.bluesky.com e l'altra è il DID il DID è il Decentralized Identifier che è una recommendation V3C di luglio 2022 e questo definisce un modo per identificare le persone, gli oggetti, le entità è una specie di UID ma quindi sono ID canonici e unici per ogni utente oggetto di questo network perché esiste una relazione tra gli handle DNS e i DID e grazie a dei crawler che fanno discovery degli utenti e delle entità è sempre possibile da ogni nodo interagire con entità e utenti disponibili su tutti gli altri nodi su tutta la rete quindi in questo modo viene garantita anche la portabilità da un nodo all'altro che è una delle critiche maggiori a Mastodon se tu vuoi portare l'account da un nodo all'altro il nodo sorgente deve fornire i dati e tutte le modalità per permetterti la migrazione se quel nodo, se quel server viene spento o viene chiuso difficilmente riesci a recuperare, a spostare il tuo account e tutti i tuoi dati dal nodo sorgente a un nodo destinatario e insomma questa è un po' la base tecnologica di BlueSky nel frattempo ha aperto i battenti quindi già più di 50.000 utenti sono entrati tra cui alcuni nomi noti di Twitter come Alexandro Casio Cortez e c'è un solo server da aggiornare al momento che è quello ufficiale di BlueSky quindi non è come Mastodon che permette già di scegliere tra tantissimi server che è una poi delle critiche principali che tra l'altro nel frattempo Mastodon questa cosa l'ha un po' sistemata perché adesso ufficialmente se voi entrate in Mastodon provate a iscrivervi su Mastodon dall'app o dal sito vi dà ufficialmente come proposta principale la creazione di un account sul server Mastodon Social e poi in maniera secondaria vi permette se sapete cosa fate diciamo di scegliere un vostro server quindi comunque per dare diciamo più semplicità di adozione potete fondamentalmente dare a un utente in mano Mastodon di iscrivervi scegliendo semplicemente username, email e password e questo viene creato su Mastodon Social quindi questa cosa ha già avuto un po' di critiche da chi spinge tanto per la decentralizzazione di Mastodon per la sua pluralità di server però è un modo per renderlo un pochino più semplice perché ai nuovi utenti è un po' ostico questo ingresso comunque BlueSky di default adesso ed è l'unico server disponibile a questo suo BlueSky Social quindi entrando in BlueSky si entra in questo nodo peraltro già nel weekend è esploso un primo bug piuttosto divertente sulla piattaforma che tra l'altro ha creato molto engagement non voluto però il bug praticamente è stato rinominato HellThread e per questa ragione ogni utente che faceva reply a un thread in particolare poi riceveva le notifiche di qualunque altra risposta a quel thread da parte di qualunque altro utente e accortisi di questo problema le gente ha cominciato a postare su questo thread qualunque cosa nudi o scenitario bacia giochi qualunque cagata e quindi utenti inconsapevoli a un certo punto venivano fladdati di notifiche di qualsiasi tipo poi dopo il bug è stato risolto però è stato un momentino che rimarrà comunque nella storia della nascita di questo network e poi tra l'altro anche il What's Hot che sarebbe il tab dove si scoprono i trend del network era un po' pieno di caos di nudi soprattutto ma un po' di caos adesso questo è stato un po' risolto un po' ritoccato però naturalmente all'inizio sembrava un po' i social network di vent'anni fa di tutto dentro e questo forse anche un po' contribuito all'engagement di questi giorni al fascino che ha suscitato il network in questi giorni però comunque al momento mancano alcune feature cruciali come i messaggi diretti tra gli utenti e la possibilità di bloccare un altro utente che però mi pare che nel frattempo sia stata implementata non so almeno su web dovrebbe essere stata implementata comunque poi il team deve anche investire nella moderazione dei contenuti quindi insomma come crescerà Blue Sky soprattutto come si monetizzerà dovremmo stare a vedere dovremmo stare a guardare che cosa può succedere poi se diventerà effettivamente un valido competitor di Twitter o di Mastodon che naturalmente è al momento l'alternativa decentralizzata più valida a Twitter quindi vedremo cosa succederà io intanto starò qui sulla riva del fiume ad aspettare a vedere che cosa passerà staremo qua a tutti poi ce lo racconteremo quindi intanto questo era Blue Sky grazie per avermi seguito ah naturalmente io non ho un account eh Blue Sky quindi non vi posso mandare inviti se qualcuno ce l'ha me lo mandi così vado a vedere com'è ma non che sia particolarmente super interessato alla social network perché ormai inizio a diventare vecchio e queste robe non mi interessano tantissimo però giusto per curiosità e per vedere un po' com'è se avete un invito me lo mandate intanto comunque io mi sono iscritto a una waitlist quindi magari prima o poi mi arriva e vado a darci un'occhiata più da vicino detto questo chiudo davvero grazie a tutti per avermi seguito e noi ci rivediamo ritroviamo risentiamo a un prossimo episodio del Buongiornissimo ciao